Che bella giornata per fare surf! Groovy, Kit e Monkey si stanno divertendo moltissimo! Quella era una lattina, un bidone, una bottiglia... State tutti bene? Groovy! Kit! E Monkey! Eccolo! Cos'è successo? Perché il mare è pieno di spazzatura? Si è formata un'isola di spazzatura! Ed è enorme! Come è possibile? Monkey ha avuto un'idea! Forse possiamo togliere la spazzatura dal mare portandola con le tavole da surf fino alla riva! Ops! Non ha funzionato come pensavamo! La tavola affonda! Ed è caduta proprio di fianco a una strana tubatura! Da cui continua a uscire spazzatura! Dove porta la tubatura? Che nave strana! Dottor Spooky! Perché non l'abbiamo capito prima? Sei tu che butti la spazzatura in mare! Ragazzi! Bisogna un momento! Cos'è che galleggia? Un pesce intrappolato in una plastica per le lattine! Ma Groovy l'ha liberato! In acqua, Kit! Il nostro nuovo amico vuole mostrarti qualcosa! Non ci crederai dove porta la tubatura! Esatto! È la nave del Dottor Spooky! Qual è la tua idea? Groovy si è trasformato in un aspirapolvere gigante! E ha aspirato tutta l'isola di spazzatura! Ma c'è ancora una cosa da fare! Il Dottor Spooky merita il castigo! Monkey prende una pietra gigante! E Groovy punta tutta la spazzatura nella nave del Dottor Spooky! Il Dottor Spooky è stato ripagato con la sua stessa moneta! Ottimo, ragazzi! Il Dottor Spooky ci metterà un po' a pulire la nave! E noi ci vediamo alla prossima avventura! Benvenuti nell'angolo dell'apprendimento di Kit! Oggi impareremo un nuovo modo per risparmiare acqua! Mentre i tuoi genitori lavano la macchina, si spreca continuamente acqua! E molte volte senza bisogno! Ehi, basta sprecare! Questo spreco esagerato di acqua fa molto male all'ecosistema! Guardate cosa succede al lago! Anche gli esseri che vivono in questo habitat soffrono per lo spreco! Ma come sempre, c'è un modo ecologico per fare le cose! Vero, Kit? Se riempiamo un secchio, non sarà necessario lasciare aperta l'acqua mentre laviamo la macchina! E così non la sprecheremo! Forza, al lavoro! Visto? È un gesto molto semplice, grazie al quale possiamo rendere il pianeta un posto molto più sostenibile! Fantastico! Ricordalo ai tuoi genitori la prossima volta che li aiuti a lavare la macchina! Salviamo l'ambiente insieme! Benvenuti al laboratorio di apprendimento di chi? Oggi impareremo un nuovo modo di aiutare l'ecosistema! Ogni giorno ci laviamo i denti, o almeno dovremmo farlo! E, a volte, mentre ci spazzoliamo i denti, lasciamo il rubinetto aperto! In questo modo, strechiamo litri e litri di acqua! Attenzione! Con un gesto semplicissimo come chiudere il rubinetto, possiamo rendere il mondo un posto migliore e più sostenibile! Esatto, ragazzi! Ottimo! Cambiando i piccoli gesti quotidiani, possiamo aiutare il nostro pianeta! Salviamo insieme l'ambiente! Grazie! 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 Grazie a tutti! Guarda l'altro, amica Farfalla. È tutto inquidato. Ecco i nostri amici della squadra SuperZone. Proprio come sospettavo, è opera del malvagio Dottor Spooky. Eccolo, quel cattivo insopportabile. Forza, andiamo in laboratorio. Dobbiamo trovare una soluzione. Chizzo. Vediamo cosa dice il tuo super computer. Ho capito dove vuole arrivare. Bisogna tappare il tubo di scappamento della nave. Ah, così la nuvola di fumo spanga un piano perfetto alle capsule di trasformazione. Monkey! Cattie! Cattie! Non vi farà niente. Adesso sì, squadra SuperZone! Ecco la nave del Dottor Spooky. Si sta pure mangiando i popcorn, mentre guarda il suo orribile spettacolo. Andiamo! Oh oh, il Dottor Spooky sta liberando i suoi spooker! Non è il piano adesso, Cattie? Lanciare agli spooker i pezzi di legno. Eh, buona idea! Sì, ce l'abbiamo fatta! Ripassiamo il piano. Dobbiamo tappare il buco di scappamento con uno dei pezzi di legno. Perfetto! Monkey lancia Cattie verso la nave di Spooky. E Cattie atterra dopo aver fatto centro nel tubo di scappamento. Obiettivo raggiunto! Dottor Spooky, il piano si è girato contro di te. Addio, malvagio! Però manca ancora una cosa. Vai, Granny, fai la tua magia! Le bolle magiche di Granny dissolvono l'inquinamento. Che magia! Tutta la natura si riempie nuovamente di vita. Come dovrebbe essere? Fai una bolla gigante, Monkey! Alla prossima, Dottor Spooky! No! No! Are you ready to take a bath? Yeah! Shampoo, shampoo, you have to use shampoo. Yes, 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 I have to use shampoo. Good, good, shampoo is good for you. Yay, 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 I love it! Woo! Yes, 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 I have to use the gel. Good, good, the gel is good for you. Yay, 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 I love it, woo! Shower gel, do-do-do-do-do-do, shower gel, do-do-do-do-do, shower gel. Rub yourself, do-do-do-do-do, rub yourself, do-do-do-do-do, rub yourself. Towel, towel, you have to use the towel. Yes, 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 I have to use the towel. Good, good, the towel is good for you. Yay, 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 I love it, woo! Use the towel, do-do-do-do-do, dry yourself, do-do-do-do, dry yourself. Ciao! Cosa? Le nove meno cinque? Kit, entra a scuola alle nove! Oddio, arriverà tardi! Non c'è tempo da perdere! Dai, Kit! Prendi lo zaino e i libri! Ecco l'autobus! In fretta, Kit! Che volo! Ops! Sali, Kit! No, l'autobus se n'è andato! Greg ha sempre la soluzione! Forza, Kit! Devi raggiungere l'autobus! Ehi, signor autista! Fermi l'autobus! Ma sono Monkey e Raccoon! Ragazzi, fermate l'autobus! Oh, finalmente! Kit arriverà a scuola in tempo! Eh, sicuri che è da questa parte, ragazzi? Ai, 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 ai! Siamo finiti nella base del malvagio dottor Pookie! Ve l'avevo detto! Eccolo quel cattivo! Ha lanciato dei chiodi sulla strada! Una delle ruote si è bucata! Oh, e adesso cosa facciamo? Ci servirebbe un colpo di fortuna! E quel colpo si chiama Kathy! Servizio di assistenza stradale espresso! Continuiamo il viaggio! Siamo arrivati a scuola! Corri, Kit! Oh, no! Non è arrivato in tempo! Cosa? Ma certo! È stato tutto un sogno! Sono le sette e un quarto! Manca ancora molto tempo prima che apra la scuola! Che sollievo, Kit!